Salve a tutti, io sono Claudia Viloso e faccio parte del cast di Heather's Musical che andrà a ricevere nel prossimo autunno. Vi invito a fare una donazione per sostenerci e per aiutarci a realizzare questo sogno e questo bellissimo progetto che vi lascerà a tutti a bocca aperta. Che ne dite? Noi vi aspettiamo a teatro, mi raccomando, non perdetevi lo spettacolo. Un bacio a tutti! Ciao, sono Lorenzo Pelle e anche io faccio parte del cast Heather's Musical, doniamo e sosteniamo questo bellissimo progetto per la prima volta in Italia, quindi doniamo, doniamo, doniamo! Ciao a tutti amici, io sono Luca Virone e anche io faccio parte di questo enorme progetto chiamato Heather's. Prima nazionale, prima europea a Roma a ottobre, noi non vediamo l'ora di farvi vedere questo enorme spettacolo, per cui donate, 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 aiutateci a regalarvi un sogno. Ciao! Ciao, sono Valeria Borsellini e io sono Valentina Simonetto e facciamo parte del progetto Heather's The Musical, la scena per la prima volta in Europa. Mi chiediamo di aiutarci a sostenere questo progetto. Un bacione a tutti! Ciao, sono Alice e anche io faccio parte del progetto The Heather's, un musical che cerca di sensibilizzare su tematiche importanti come quella del bullismo, ma per realizzarlo abbiamo bisogno del vostro aiuto, quindi donate. Grazie mille! Ciao a tutti, io sono Andrea Medini. Ciao, io sono Cristina Giaghi. Anche noi facciamo parte di questo bellissimo spettacolo che è Heather's The Musical, che andrà a scena in ottobre a Roma, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto per poter portare in scena questo spettacolo e mi raccomando donate, 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 aiutateci e in attesa noi vi aspettiamo. Ciao a tutti! Ciao a tutti, sono Miriam Tocci e interpreterò Mrs. Fleming The Musical Heather's, un musical che ha fatto impazzire gli Stati Uniti e che sarà in Italia e in Europa per la prima volta a ottobre. Allora, non perdetevi questo bellissimo musical, seguiteci e sostenete lo spettacolo con una piccola donazione. Ci sono delle ricompense speciali per tutti. Ciao a tutti, sono Melania Di Giorgio e faccio parte del cast Heather's The Musical che andrà a scena ad ottobre per la prima volta a Roma in versione italiana. Per sostenere questo nostro progetto abbiamo bisogno anche del vostro aiuto attraverso una piccola donazione. Dunque vi ringraziamo in anticipo e vi aspettiamo tutti quanti in teatro. Grazie ancora, un bacio! Ciao, sono Renata Tomassi e anche io farò parte del cast di Heather's The Musical, un meraviglioso progetto per il quale conto su di voi, sul vostro aiuto e sul vostro sostegno. Anche una minima offerta, veramente piccola, per noi sarebbe importantissima. Perciò conto su di voi e vi aspetto a teatro. Ciao! Hey, wait for me! I wanna be there too! Ciao, sono Kate e sono australiana e non mi perderei per niente che è Heves e il Musical. Questo è autunno, a scena a Roma. Ciao! 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 Grazie.